La trattori Lamborghini S.P.A. ha presentato ben 5 nuovi modelli di trattori di alta potenza che aprono una nuova via per lo sviluppo della meccanizzazione agricola. Si tratta dei modelli 956, 1106, 1306T, 1506T e 1706T caratterizzati da una nuova serie di motori originali Lamborghini a 6 cilindri raffreddati ad acqua una scelta quest'ultima che costituisce una grossa novità nella strategia Lamborghini per le alte potenze. La trattori Grazie a tutti Grazie a tutti Vedi le nuove cabine di disegno integrato nella linea della macchina e dotate di tutti i confort tipici del settore automobilistico Nuove anche le trasmissioni, fino a 24 velocità sincronizzate, dotate di inversore, sollevatori idraulico di concezione originale ed infine una nuova serie di trazioni anteriori che ripropongono i fasti delle tradizioni Lamborghini in questo settore Eccezionale la sterzata di 50 gradi con freni indipendenti su tutte e quattro le ruote I motori sono di tipo modulare, cioè a teste e cilindri indipendenti, intercambiabili nei vari modelli della famiglia Canne e cilindri di tipo umido, nuovi condotti di aspirazione e nuove camere di combustione che danno consumi, fumosità e rumorosità Così ridotti da costituire una vera e propria sorpresa Dovendo rispondere alle esigenze più disparate, la nuova serie alta potenza è stata suddivisa in due famiglie La gamma medio alta con nuovi motori 6 cilindri, raffreddati ad acqua, aspirati sovralimentati, con cilindrata di 5.500 cm³ All'esaggio di 103 mm, corsa di 110 mm Le potenze previste sono rispettivamente 95, 110 e 125 cavalli La gamma alta con motore 6 cilindri sovralimentato, raffreddato ad acqua con cilindrata di 5.800 cm³ All'esaggio 110 mm, corsa 120 mm e potenze da 145 e 165 cavalli Il tangos del clandos Il tangos del integrale di Vaccino Il tango del integrale di Gomberg All'esaggio di un inclinci proceedings Il centrale di quotidiano di pseudaldunzetta di 154 di половin ventㄷ Leica di stamp certainty Un tango delır Or gespezie Il tango del genere lo sforzo fatto dalla Lamborghini con questa nuova famiglia di trattori giustifica appieno lo slogan Lamborghini in prima fila per l'agricoltore in prima fila che ben sintetizza il nuovo punto fermo nella tradizione di primati che questa italianissima casa può vantare Grazie